Salve a tutti ragazzi e bentornati nella Exit Sono sempre Alex Scialla Beh ragazzi siamo su Minecraft Sono tornato finalmente dalle vacanze Beh, mmm... Sì, mi sono divertito Siamo di nuovo tutti qui Pronti a ricominciare il tutto Delle persone mi hanno chiesto se la New World Modpack sarebbe stata Cioè se avevo tolto la New World Modpack dalle scatole Ma non è così ragazzi Non vi preoccupate Ho solo fermato la serie per il momento Perché appunto era più bello per voi vedere questa E più... Veniva più voglia a me di registrare molte puntate di questa Tutte in una botta Che è diverso Cioè sinceramente anche perché a mio parere la New World Modpack Farla di 10 minuti è brutto Perché... Cioè voi dovete pensare che Quella è una serie che... Cioè non si possono fare 10 minuti Questa qua è un'avventura Uno ci si diverte in quei 10 minuti Combatte di qua Combatte di là Anzi A mio parere Le puntate di 20 minuti magari sono anche monotene Rispetto a quelle della New World Modpack In questo caso Ho deciso di fare questo video Che è un video aggiornamento Giusto per dirvi che A giorni Cioè lunedì Se non erro Doveva ricominciare tutto Come erano prima Cioè ricominceranno tutti i video Cercheremo Di farle di 20 minuti Però non so Se farlo di 20 minuti Anche questo O sarlo lasciarlo a 10 minuti Però fare entrambe le serie 20 minuti di New World Modpack E 10 minuti di questa Al giorno In modo che... Ragazzi ancora non ho capito A che diamine serve Sta cosa Vabbè Noi ammazziamo questi stronzi Comunque Ricominceremo da qui Ho ancora alcuni video Da farvi vedere Che già ho caricato Devo solo pubblicare Tipo come Quella di Countest Che vi avevo già detto Questo non sarà L'ultimo video Della vacanza Perché io ho preparato il video Anche per domani Cioè domenica Per cui Domani uscirà L'ultimo video Che riguarda L'estate E poi lunedì Ricomincerà tutto Come prima Per cui Spero Uh uh Ci ho dato la testa di Creeper Dammi la testa di Creeper Grazie Che cazzo ho schiacciato Non so Comunque Ragazzi Spero Ho visto che Nonostante tutto Sia estate I miei video Li state guardando comunque Le solite 30 40 visualizzazioni Ci sono state Ci video Per cui Sono contento così Cioè Nell'ultimo periodo C'è un incremento Di mi piace Sono molto contento Speriamo di salire Molto più velocemente Di questo Perché cioè alla fine Più siamo meglio E no Alla fine A me non interessa Crescere Però Cioè Mi interessa crescere Per poter far divertire Più di voi Però cioè Ehm Non è importantissimo Però Sarebbe Cioè È una soddisfazione Quando vedo Cioè siamo Ad 80 iscritti E Sicilmente Vedere che Nonostante tutto Voi mi seguiate E tutto Cioè Sono grandi soddisfazioni Per me Anche perché Quando ho aperto questo canale Pensavo che Non mi avrebbe seguito nessuno A parte i miei amici Ma che cazzo Sento altri Che per rispondere Comunque Eslodere Mi piace eslodere Comunque Sento Cioè Mi aspettavo che Mi seguissero solo i miei amici Cioè Giusto così E poi Averi chiuso Perché nessuno Mi avrebbe seguito Mentre invece Cioè Avere 80 persone Che ti segui Che cazzo Che cazzo Ragazzi Che cos'è quel coso Oh oh Non so cosa tu sia Ma sei una cosa Molto figa Che diamine sei Tu levati dalle palle Per piacere Mo' esplode E muoio Quando ci scomentiamo Ragazzi Come si va a prendere Che cavolo Ragazzi In diretta Abbiamo Della polvere Di stelle Ragazzi In diretta Nel video Aggiornamento Al ritorno Dalle vacanze Beh Una fantastica Nettissima Abbiamo La polvere Di stelle Ragazzi Che cazzo È la polvere Di stelle A cosa serve Oltretutto Cioè però Avete visto Che cosa figa Oh Uno slime particolare Vediamo un po' Magari ci droppa Qualche arma particolare Dai su su Muori Tizio Muori Che diamine È sto coso Buttiamo L'uovo Che ne corrite Che non sono malissimo Però noi abbiamo I nostri fantastici Scarpini Che ci fanno Saltare Di 20 km Dobbiamo vedere A cosa serve Questa stardust Ragazzi Ciao creeper Ah no Quanto amo Questa spada È troppo bella Comunque Vediamo un po' Che cosa serve Questa stardust U Si fanno Le star beam torch Solo La magic powder Che cosa servono Ste star beam torch Ho ne merito Cazzo La magic powder Nemmeno E che cosa ci devo fare Con sta roba Sto coso Che cazzo Che cosa ci dovrei fare Io Spiegatemelo Oh Delle bistecche cotte Che neanche ci dispiacciono Buttiamo le piume Sti cavoli Ragazzi Se voi sapete A cosa serve Questa stardust Cioè La polvere di stelle Fatemelo sapere Comunque Non so se voi avete sentito Il berlu La bella musichetta Che è uscita in sottofondo Cioè Ma è stato qualcosa Veramente di eccezionale Comunque ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Lasciando un bel mi piace Con sotto Un commentino E se non vi siete ancora iscritti Beh fatelo Ciao a tutti ragazzi